Come sappiamo il mese di maggio è specialmente dedicato alla Madonna e alla fine del mese si fa memoria particolare della Madre di Dio. Un tempo queste cerimonie mariane erano particolarmente sentite e fiorimano in ogni chiesa o agli angoli delle strade. Come diceva Vittorio Messori citando Leon Blois, i più grandi dei vodi mariani sono o i grandi peccatori o gli umili, gli innocenti. Probabilmente questo è vero e oggi ci mancano queste categorie nel senso che abbiamo certamente ancora grandi peccatori ma forse non si rendono conto più di cosa è il peccato. Il peccato è stato derubricato e è divenuto mera fragilità psicologica. Sempre Vittorio Messori nel suo ipotesi su Maria scriveva che la madre come è stato osservato e come lui stesso ha sperimentato la si scopre dopo quando si è entrati in intimità col figlio e questi fa accedere dentro alla casa. Insomma più si entra in intimità con Gesù diceva Messori più si svela la madre. Io vengo da una famiglia di estrazione popolare grazie a Dio e ho potuto testimoniare della tenerezza del popolo semplice verso la madre di Dio. Quale profonda fiducia agli umili e forse anche grandi peccatori ripongono nell'intercessione di Maria. Ovviamente c'è la fede ma c'è anche un interessante sguardo antropologico sociologico e psicologico da gettare. Ho visto uomini rudi aggressivi violenti sciogliersi in lacrime davanti all'immagine della Madonna. Ho visto gli sguardi pieni di fiducia e speranza lungo le precessioni mariane. È vero che l'intimità con il figlio ci introduce alla madre ma può essere vero anche il contrario che la madre ti sappia guardare come nessun altro e che ti porti lei presso suo figlio.